Qual è la migliore attività fisica dopo i 45 anni? Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale, all'aumento della prestazione. Se non hai ancora fatto l'iscrizione al canale, falla subito e clicca anche sulla campanellina per ricevere le notifiche quando ci sono novità. Qual è la migliore attività fisica dopo i 45 anni? Allora io mi sto avvicinando ai 50 anni e quindi è un video che mi sta particolarmente a cuore e devo dire penso che stia a cuore a tante persone perché fortunatamente negli ultimi anni la quantità di persone che si avvicina allo sport sta piano piano aumentando. Purtroppo rimane ancora una quantità molto grande di persone completamente sedentari e mi auguro che anche qui i numeri cominciano a migliorare, ma sicuramente qualcosa nella testa delle persone sta entrando. Però non è facile capire che cosa va fatto. In primis dobbiamo capire una cosa, l'attività fisica o l'allenamento che scegliamo di fare per ottimizzare la nostra salute e la qualità della vita e la longevità non è necessariamente l'allenamento iper specialistico che si fa per eccellere in uno sport. Attenzione, non è la stessa cosa. Lo sport per definizione è super specialistico, quindi tende ad allenare alcune cose a discapito di altre, mentre in un allenamento funzionale finalizzato a vivere bene dovresti allenare un po' tutto, in particolare almeno tre componenti, quella cardiocircolatoria aerobica che stimola in particolare il cuore, i vasi, la regolazione della pressione, la funzionalità circolatoria, i polmoni, quella muscolare che stimola in particolare la massa del muscolo ma anche rafforza sicuramente le ossa e poi infine quella che riguarda la flessibilità, la mobilità, la destrezza. Quindi bisognerebbe prevedere di allenare tutte queste cose. Però c'è un problema che è il logorio. Ovviamente più passano gli anni e più si evidenzia questa sorta di paradosso, cioè la sedentarità ci fa male, ma ovviamente più utilizzi la tua macchina e anche più aumenta il logorio, in particolare poi se sei nella condizione mia, cioè oltre i 45 anni con un passato di tanto sport che ti ha magari anche lasciato qualche problema, qualche piccolo infortunio, qualche acciacco, quindi bisogna stare un pochino attenti. In particolare di quei tre elementi che ho citato prima, in particolare i primi due un logorio lo portano senza ombre di dubbio. La parte aerobica porta un logorio soprattutto metabolico, dovuto all'alto livello di stress ossidativo che viene prodotto negli sport di lunghissima durata o di lunga durata di tipo aerobico, provoca anche un logorio osteoarticolare dove questi sport hanno anche un alto livello di impatto su determinate articolazioni, basta pensare alla corsa. La seconda categoria di allenamenti, quelli per la muscolatura, anche porta ad un logorio, un logorio importante soprattutto a livello di tendini ed articolazioni, in particolare se anche quando sei alla soglia dei 50 anni vuoi continuare a utilizzare i carichi che utilizzavi a 20 o 25. Quello sicuramente meno logorante è la parte che riguarda la flessibilità, la mobilità e la destrezza, che peraltro è forse anche la parte di cui siamo più carenti con il passare del tempo. E se dobbiamo dire cala tutto con il passare degli anni, sia la capacità aerobica che la forza muscolare, ma se c'è una cosa che cala in particolare è proprio la mobilità, la flessibilità e la destrezza. Quindi questa è una componente spesso trascurata molto importante. Cosa fare quindi? Io credo che bisogna riuscire a fare un po' di tutto nelle giuste dosi. Quindi secondo me c'è una base di attività aerobica che va fatta anche tutti i giorni, ma scegliendo in particolare una versione non traumatica dell'attività aerobica. È chiaro sto parlando a chi non fa competizioni ovviamente, lì è tutto un altro tema, ma se devo scegliere tra utilizzare la bicicletta e correre, la bicicletta è sicuramente meglio, salvo cadute ovviamente, quindi facciamo attenzione, ma è sicuramente meno traumatica della corsa per esempio. Quindi questa è una base di attività aerobica anche tutti i giorni. Un 2-3 volte alla settimana un'attività di forza sui muscoli utilizzando però dei carichi che non siano carichi da ventenni, magari stando sulle 12-15 ripetizioni, che non è propriamente un lavoro solo di forza, ma sicuramente contribuisce a mantenere la massa muscolare. E poi, per me tutti i giorni, un'attività invece di stretching, allungamento, mobilità, destrezza, una piccola routine di esercizi che mantenga viva questa componente della nostra capacità fisica che in genere trascuriamo molto. Direi che se dobbiamo riassumere un concetto qui, è che l'idea che dobbiamo avere in testa è che vogliamo allenarci il più a lungo possibile, possibilmente per tutta la vita, quindi dobbiamo anche un po' tutelarci. perché se ogni allenamento rappresenta uno stress insormontabile o un trauma gigantesco, è chiaro che riduci le chance di poterlo fare non solo dopo i 45, ma dopo i 55, 65, 75 e così via. Quindi dobbiamo avere un'ottica lungimirante nello scegliere la tipologia di attività fisica che vogliamo fare. In più dovremmo costruire un allenamento che sia scientificamente strutturato. questo non è facile da fare, spesso anche i trainer non lo fanno. Se tu vuoi avere qualche conoscenza in più su come strutturare un allenamento su criteri scientifici, ti consiglio vivamente il corso Costruisci il tuo corpo dove ho riassunto la scienza della metodologia dell'allenamento, cioè quali sono le variabili che dobbiamo conoscere, per esempio il rapporto tra volume e intensità d'allenamento, i differenti meccanismi o canali biochimici utilizzati nel metabolismo energetico, nei diversi sport, quindi tutte cose che ti aiutano a capire se stai facendo giusto, dove puoi migliorare per non perdere tempo e soprattutto tutelare la tua salute.